Salve amici del centro meteo italiano. Molte nuvole e qualche pioggia sulla nostra penisola. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per mercoledì 22 dicembre. Piogge sparse al mattino sui dettori peninsulari del sud ma anche su Romagna e Lazio. Asciutto altrove con nebbie e nubi basse sulla Valpadana. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo locali piogge su Puglia, Basilicata e Calabria. In serata e notata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nebbie e nubi basse al centro nord. Temperature minime e massime, stazionarie o in ulteriore lieve calo. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.